800 grammi di hashish ben nascosto dentro l'armadio, qualche panetto addirittura dentro le tasche delle giacche. A scoprire ed arrestare un 38enne per detenzione e fine dispaccio di sostanze stupefacenti sono stati i carabinieri della stazione di Arezzo. L'uomo, un cittadino marocchino, residente in città con precedenti specifici, da tempo era sotto stretta osservazione. I militari avevano infatti notato un sospetto via vai dalla sua abitazione in via romana. L'appartamento era infatti diventato un punto di riferimento per gli acquirenti. Ieri mattina i carabinieri di quartiere della stazione di Arezzo, in collaborazione con quelli della sezione radiomobile, hanno arrestato l'uomo. I militari hanno svolto una curata perquisizione domiciliare, hanno così trovato ben 800 grammi di hashish già suddiviso in panetti. Lo stupefacente era nascosto nel doppio fondo dell'armadio all'interno di una scatola. Altra droga poi è stata trovata dentro le tasche di alcune giacche appese sempre nell'armadio. L'hashish una volta sul mercato avrebbe potuto fruttare al pusher sino a 10.000 euro. Per lui sono ovviamente scattate le manette attualmente associato presso la camera di sicurezza della stazione di Arezzo, in attesa del rito direttissimo che avrà luogo domani.